cari fratelli e sorelle nella fede siamo giunti a questa quinta domenica del tempo ordinario ancora con il vangelo di marco e viene raccontata in questa domenica la giornata tipo di gesù scandita dall'alternarsi di tre cose annunciare guarire e pregare cafarnao è il primo laboratorio del regno dove il mondo di dio si misura con il mondo del dolore l'abbiamo ascoltato in questo vangelo nella bibbia il futuro inizia sempre come qui nelle paludi marco ci fa vedere tre location preferite da gesù la strada gesù si reca la casa di simone quindi la casa e poi la folla la suocera di simone raletto con la febbre e subito gli parlano di lei fa tenerezza questo preoccuparsi di simone andrea delle loro vicende familiari e metterne diciamo a conoscenza anche gesù come si fa con gli amici stretti tutto ciò che occupa il cuore dell'uomo entra nel rapporto con dio egli si avvicinò il primo verbo bellissimo rivelatore gesù non sopporta le distanze e mostra il suo primo annuncio in atto il regno si è fatto vicino il regno è lui è gesù stesso vicino significa avvicinarsi a chi ha bisogno si avvicinò e le prese la mano potenza umile di questo gesto mano nella mano una donna e dio una mano è fatta per innalzarsi in un gesto di invocazione per stringere altre mani in segno di amicizia o di aiuto per accarezzare per proteggere per ricevere per dare la prende e la solleva toccare ecco l'arte della vicinanza non una vicinanza che indica anche distanza perché non si toccano gesù la tocca un parlare con il corpo ecco una forza una forza che viene data una persona che stanca una fiducia che viene per un figlio impaurito una carezza per chi è solo ecco oggi mi veniva a mente anche quando il primo venerdì del mese passo per le case delle persone che vogliono ricevere gesù nell'eucarestia la prima cosa che che mi preoccupo proprio perché possano sentire oltre l'eucarestia ma la vicinanza di gesù anche il contatto con queste persone l'abbraccio la parola il segno della croce sono quei contatti che fanno sentire la vicinanza di gesù come persona non solo come pane non solo come presenza ecco miracolosa ma anche come presenza viva attraverso di noi e non è un compito solo affidato a noi ministri della chiesa è un compito di tutti perché tutti quando avvicinano gli altri che hanno bisogno siano il contatto di cristo perché gesù è in ciascuno di noi e gesù la prende la solleva abbiamo detto la tocca e poi la fa risorgere la libera la sana ed ella li serviva il servizio a questo punto e quel test della vera guarigione di tutti il vangelo usa lo stesso verbo del racconto delle tentazioni la diaconia il servizio quando gli angeli si avvicinarono a gesù e lo servivano nel deserto in questo momento è una donna la suocera di pietro la suocera di san pietro che viene assimilata agli angeli in questa diaconia in questo servizio le creature più vicine a dio gli angeli sono assimilati nella persona di questa suocera di pietro e lei possiamo dire diventa in questo vangelo per la prima volta una servitrice del vangelo stesso quindi un un punto sul quale riflettere una donna che riceve la grazia è la prima cosa che fa va a servire chi lo ha graziato poi dopo il tramonto del sole finito il sabato con i suoi divieti sappiamo gli ebrei ne abbiamo parlato tante volte proibito era anche a visitare gli ammalati tutto il dolore di questa cittadina cafarnaum come dice il vangelo cafarnaum tutto il dolore della gente va davanti alla porta di pietro la città intera è riunita davanti alla sua porta davanti a gesù in piedi sulla soglia in piedi tra la casa e la strada tra la casa e la città davanti a gesù chi ama le porte aperte che fanno entrare occhi e stelle polline di parole rischio di vita davanti alle aperte le porte aperte di dio s'addenza però il dolore del mondo la casa scoppia di folla e scoppia di dolore e poi di vita ritrovata queste guarigioni compiute dopo il tramonto quando iniziava il nuovo giorno sono il collaudo del mondo nuovo che sta per venire attraverso gesù e raccontato forse prefigurato in quelle parole della genesi e fu sera e fu mattina il miracolo è nella sua bellezza la mattina è giovane è l'inizio del primo giorno della vita guarita quando ancora era buio uscì in un luogo segreto e la pregava ecco questo il terzo punto gesù sa inventarsi anche gli spazi spazi segreti però che danno la salute all'anima un tu per tu con dio e questi spazi segreti che noi purtroppo con la nostra vita frenetica abbiamo perso eppure il signore ce lo insegna cercava un luogo appartato per pregare perché deve venire nel momento in un momento della nostra vita e forse anche spesso l'attimo in cui io mi incontro con il mio creatore con il mio signore perché possa anche rivedere la mia vita di fronte al signore un po come fa il pittore quando sta creando la sua opera sul cavalletto sta dipingendo che cosa fa su un certo punto si allontana e da lontano guarda l'opera per capire se sta avvenendo bene se è riuscito nelle cose in cui aveva pensato dove fare delle modifiche ecco questo allontanarsi dalla vicinanza della frenesia è questo allontanarsi nostro è il momento della stanza segreta nella quale incontrare dio e allora riassumiamo riassumiamo queste parole che abbiamo ascoltato nel vangelo ovvero il cortile la prima cosa no lui esce dalla sinagoga gesù esce dalla sinagoga e si avvia appena guarito un demoniato l'abbiamo sentito domenica scorsa quello il primo miracolo del vangelo per ricordare a tutti che la prima purificazione da fare deve compiersi all'interno della comunità quella comunità di cui abbiamo parlato domenica per superare una visione demoniaca della fede esce e si dirige nella casa di pietro non è più la sinagoga il luogo sacro ad essere il cuore della nuova comunità dei discepoli ma la casa dio esce dal tempio per abitare e fecondare la nostra quotidianità e quello che noi dovremmo fare ogni domenica quando al termine della santa messa dopo averci dopo esserci cibati di gesù cristo portarlo nella nostra quotidianità nella nostra casa e noi invece siamo abituati a scindere le cose a tenere gesù rinchiuso nel tabernacolo della chiesa e così marco inizia il suo angelo andando dritto all'essenziale raccontandoci questa giornata tipo di gesù fatta di ascolto di guarigioni di liberazioni di preghiere di silenzi e di libertà interiore momento della preghiera ricordo uno degli episodi di una serie che sta andando in un sulla vita di gesù si chiama the chosen e in questa serie è proprio descritta questa giornata di gesù è molto bello perché vedere questo personaggio che interpreta gesù che al termine di questa frenetica giornata nella quale non ha fatto altro che ascoltare guarire pregare si avvicina alla sua tenda per andare a riposare quasi zoppicando perché i suoi piedi erano talmente stanchi che non riusciva neanche a togliersi i sandali per la grande stanchezza è una scena amorevole nella quale maria la madre gli lava i piedi prima gli rinfresca i piedi proprio prima di andare a dormire e così diciamo che questo vangelo ci dà anche un orientamento su come deve essere questo anno che appena iniziato diciamo siamo all'inizio di febbraio è un orientamento nel quale comprendere come portare gesù dal tempio alla comunità esterna alla casa alla società poi un'altra parola ancora la suocera gesù entrando in casa di pietro scopre che sua suocera è a letto febbricitante si avvicina la prende per mano e la guarisce lei subito si mette a servirli come abbiamo detto anche noi dobbiamo essere come la suocera di pietro guariti per servire se il primo atto da compiere all'interno della comunità è quello di superare una visione demoniaca della fede il secondo è quello di servire il signore i fratelli a partire dalle nostre ferite che diventano quasi feritoie cioè si aprono e lasciano passare la luce che abbiamo raccolto non dobbiamo essere dei super uomini delle super donne per poter consolare l'altro ma mostrare le nostre ferite guarite dal signore la comunità di per sé non è composta da gente sana bella forte santa esemplare ma nella maggior parte dei casi da ammalati guariti da peccatori perdonati da persone fragili e impedite che in cristo trovano la guarigione e la forza siamo dei guaritori anche noi ma dei guaritori feriti perché dobbiamo essere in grado di servire i nostri fratelli senza giudicarli senza criticarli senza caricarli di sensi di colpa è una pessima abitudine questa quella del giudizio noi siamo abituati proprio al giudizio anche sferzante noi per primo invece che abbiamo sperimentato quel peso della malattia dell'anima dovremmo stare in silenzio di fronte al giudizio lo sconforto la paura la solitudine l'arroganza la lussuria l'egocentrismo il narcisismo l'indifferenza e ne siamo stati guariti o ne stiamo guarendo o cerchiamo con tutta la nostra forza di guarire affidandoci al signore perciò siamo possiamo dire solo in questo modo credibili solo in questo modo possiamo essere credibili e portare gesù verità perché accogliamo senza giudicare senza sentirci apparire arroganti e superiori agli altri poi sulla soglia la curiosità raduna questa folla all'interno della casa della moglie di pietro gesù non il delude esce dalla piccola casa del pescatore si ferma sulla soglia riguarisce libera esiste ancora quella soglia la si vede visitando gli scavi archeologici di quella cittadina di cafarna o davanti alla casa identificata con alta probabilità anche scientifica e storica come la casa di pietro c'è ancora quella soglia un lastrone di pietra fra due sponde di muro che dovevano contenere una semplice porta unico accesso a questa piccola costruzione il dio dei confini che cerca pescatori di umanità in un paesino di frontiera cafarna o sulla spiaggia altro confine ora si pone sulla soglia la soglia che unisce il pubblico e il privato il sociale e l'intimo la folla e la casa il sacro e profano non più la sinagoga e nemmeno più la casa ma la strada diventa il luogo dell'annuncio e della guarigione ogni luogo ormai è diventato santo perché accoglie la presenza del dio fatto uomo di quel dio che si è fatto uomo e ha camminato sulle strade della nostra terra santificandole quando profeticamente il papa francesco parla delle periferie probabilmente intende anche qualcosa del genere si tratta di allargare i nostri confini mentali anzitutto uscire dalle piccole dimore dell'anima che poco accolgono e troppo respingono non restiamo giusi nelle nostre sacrestie aspettando che la gente del quartiere venga a bussare usciamo là dove veramente vive la gente nella contraddizione nella fatica del quotidiano questa lunga e destabilizzante fase di incertezza di guerra di crisi globale ci insegni a tornare a raccontare cristo nelle case ora che i nostri oratori per la maggior parte si svuotano e le nostre attività pastorali si moltiplicano ma sono ridotte a lumicino nelle presenze è il cortile il luogo che ospita il santo di dio e poi di notte la giornata è finita ma non per gesù si alza presto al mattino per andare a pregare tutto solo e questo è il segreto del suo equilibrio della sua forza e del suo carisma il colloquio intimo e fecondo con dio padre ha lavorato tanto ha ascoltato tanto ha guarito tanto è stanco ma si è speso fino all'inverosimile lo può fare solo perché sa dove nutrirsi perché sa come ricaricarsi dove andare a chi rivolgersi la preghiera la meditazione il silenzio ci sono indispensabili per nutrire la nostra anima essenziali per non morire dentro cinque minuti di preghiera quotidiana a volte possono cambiare molte cose non cambiano l'azione di dio convincendolo a concederci delle grazie cambia il nostro modo di vedere le cose e più la nostra vita è caotica e confusa obberata e faticosa e più c'è indispensabile dedicare del tempo alla nostra vita interiore anche a costo di rubare qualche minuto al sonno la preghiera ci rende liberi la preghiera ci rende discepoli e poi andiamocene dice gesù simone raggiunge il maestro lo rimprova ma come c'è tanta gente che ti sta cercando è galvanizzato no dalla giornata precedente vuole cavalcare l'onda a crescere la fama al suo ospite spingerlo a tornare di nuovo indietro a cafarnao che la sua città è ansiosa la sua ricerca non segue gesù quasi lo insegue c'è una venatura di rimprovero però nella affermazione tutti ti cercano è quasi un tirare per la giacchetta lo stesso gesù interrompe poi anche la stessa preghiera di gesù sicuramente avrà interrotto e gesù non ci sta non tornerà a cafarnao vuole andare altrove oltre guai a chi cerca di tenere per sé il vangelo guai a rinchiudersi all'interno della parrocchietta è il mio piccolo mondo guai a chi si illude di possedere dio solo in quel piccolo spazio ecco questa è la giornata del discipolo che dovrebbe essere del discipolo perché si deve confrontare con la giornata di gesù ci siamo scoperti ci siamo stiamo scoprendo amati perché gesù ricarica le sue forze per continuare ad amarci guariti e sanati condotti dal maestro fuori dalla soglia come lui sappiamo dove attingere forza e luce è tempo di amare al massimo delle nostre capacità ecco il motivo di ricaricarsi bisogna essere al massimo delle nostre capacità soprattutto oggi e guaritori feriti chiamati a servire gli uni la gioia degli altri e anche questa domenica questa riflessione possa restare con voi e farvi avvicinare sempre di più a quella che è la giornata tipo di gesù perché possa essere in piccola parte anche la nostra giornata ma soprattutto sappiamo scegliere i momenti nei quali agire e nei quali pregare e meditare per ricaricare le nostre forze della fede e continuare l'azione vi benedica dio onnipotente padre figlio e spirito santo in questa quinta domenica del tempo ordinario